Immagina una spiaggia deserta, con il sole che si tuffa all'orizzonte e le onde che accarezzano dolcemente la riva. Manu e Leiana sono finalmente insieme, lontani da tutto e da tutti, pronti a vivere il loro momento di pace. Ma proprio quando tutto sembra perfetto, un'ombra si abbatte sulla promessa. Cruz, furiosa, scopre che è stata sua cognata Margarita a spingere Manuel ad allontanarsi dalla tenuta. La sua rabbia cresce ogni minuto, e sembra che nulla possa placarla. Nel frattempo Simona è tormentata dalla verità nascosta nelle lettere di suo figlio Antonio, e sia Candela che Lope cercano di spronarla a rivelare la storia delle finte lettere scritte da Don Carlos. Catalina e Pelaio si avvicinano sempre di più, mentre Martina inizia a dubitare della condizione delle donne nella società, proprio come la cugina. Ximena è in preda alla rabbia, e si sfoga con i marchesi, rimproverandoli di non volerle dire la verità su Manuel. La tensione è palpabile, e proprio in questo clima Mauro, l'apprendista maggiordomo, fa una scoperta inquietante. Don Romulo, il suo mentore, nasconde un segreto. Perché ha spesso il fazzoletto macchiato di sangue? Mauro prova a chiedergli spiegazioni, ma le risposte sono elusive e preoccupanti. La promessa è un crogiolo di emozioni e tensioni. Simona si lamenta per le critiche ricevute da Cruz sulla qualità del cibo servito al ballo in maschera. Alonso ha un diverbio con Catalina, che accusa Cruz di aver rubato i soldi destinati alle paghe dei lavoratori. E mentre Alonso cerca di mantenere la calma, Ramona vorrebbe partire. Ma Curro la convince a restare fino al ritorno di Iana. Nel bel mezzo di questo caos, Mercedes arriva improvvisamente alla tenuta. È determinata a chiedere spiegazioni a Cruz e Alonso, per il loro comportamento con Jimena. Manuel e Iana fanno pace, e Iana confessa a Manuel di amarlo, mentre Mercedes cerca di difendere la figlia. Ma Cruz finge di cadere dalle nuvole, cercando di salvare le apparenze. Cosa ne pensi di questa situazione esplosiva? Lasciaci un commento con le tue ipotesi su cosa accadrà dopo. La tensione tra i personaggi cresce. Imana rivela a Mercedes che Manuel l'ha umiliata alla festa in maschera, ballando con una misteriosa invitata vestita da Sherazad. Mercedes promette che farà in modo che Manuel le porti rispetto. Petra si scontra con Feliciano, stanco del suo astio verso il prossimo, dichiarando di non fidarsi più di lei. Nel frattempo, Pia porta il piccolo Diego a salutare tutti, compreso Feliciano e Petra. Lui accetta con slancio e apprezza la bontà della madre. Ramona invita Iana e Curro a cena prima di lasciare la casa, ma i ragazzi non riescono a scoprire il motivo di questa decisione. Lope, con gli avanzi della festa in maschera, organizza una cenetta a tre con Salvador e Maria, rafforzando così la loro amicizia. Teresa vede Feliciano nel patio a tarda sera e cerca di farlo parlare. Catalina consegna a Simona e Lope la loro paga per la produzione della marmellata, poiché Pelaio ha insistito affinché saldasse il debito, anticipando il denaro di tasca propria. Ximena è furiosa con Manuel perché dopo il ballo in maschera è sparito e al suo rientro non ha dormito nella loro camera. È convinta che suo marito sia andato via con la misteriosa ragazza con cui aveva ballato per tutta la sera. Maria scopre che Iana non era andata a Cordova per soccorrere i feriti, ma quando le chiede spiegazioni Iana si rifiuta di parlare. Simona riceve una lettera di suo figlio Antonio, che dice di accettare il suo invito e che presto giungerà alla promessa. Simona è sconvolta, perché l'invito non è partito da lei. Feliciano racconta a Teresa quello che è successo con suo padre e Teresa arriva alla conclusione che la morte dell'uomo è stato solo un incidente. Iana e Curro scoprono che Ramona è partita e ha lasciato loro una lettera. Mercedes propone a Manuel di trasferirsi nel loro palazzo insieme a Ximena, ma Manuel rifiuta categoricamente. Iana svela a Maria di essere andata sulla spiaggia con Manuel e non a Cordova a curare i feriti. Romulo, spinto dalla richiesta di Pia, chiede al marchese di restituire il suo ruolo a Lope, ma senza successo. In vista della partenza di Lope, Pelaio chiede il permesso a Catalina di chiamare il suo valletto, Jerome. Mauro trova a terra un fazzoletto sporco di sangue appartenente a Romulo, e nel restituirglielo trova il coraggio di chiedergli della sua salute. Non essendoci stata una conciliazione nella coppia, Mercedes chiede a Iana di preparare i bagagli di Ximena, per tornare nel loro palazzo il prima possibile. Cosa succederà alla promessa? Quali segreti stanno per essere svelati? Non perderti il prossimo episodio e resta con noi, per scoprire come si evolveranno le storie dei nostri protagonisti.